Questo emendamento è stato valutato, analizzato e concordato in Commissione e interviene perché rispetto agli anni passati non c'è più il periodo di adattamento prolungato nel tempo per cui si è ritenuto opportuno inserire una formula di questo tipo. Dicevo che questo è un primo passo per andare ancora a migliorare, come ho detto prima, il sistema di agevolazioni fiscali. Non ultimo quello che ricordava la consigliera Baglio, quindi avvieremo già da domani un'analisi di quelli che sono i non residenti a Roma in modo da provare ad avviare dei protocolli con i sindaci limitrofi, dei paesi limitrofi, in modo da concorrere e intervenire in questa materia. Anche se questa specificazione deriva proprio dal decreto letta che è molto ferreo nello stabilire determinati cosiddetti paletti. Quindi ho approfittato dell'intervento per spiegare anche quello che sarà il percorso successivo. Quindi io già domani chiederò ai municipi un riscontro in modo da migliorare, l'ho detto all'inizio, un primo passo verso ulteriori approfondimenti e ulteriori interventi. Grazie.